Il Comune di Genova assolutamente ha regolamentato la materia con un proprio regolamento dove ha inserito le norme fra cui la distanza sensibile dalle scuole, dalle altri luoghi sensibili di 300 metri. È stato oggetto anche di ricorsi al TAR ed ha superato questo scoglio e è andato avanti in tale materia. Quindi assolutamente è stata parte attiva in questa problematica. Il problema è che molti di più dovrebbero seguire almeno questo esempio. Assolutamente. Noi abbiamo ottenuto dalle amministrazioni comunali notizie confortanti, ovvero abbiamo chiesto alla disposizione degli amministratori e dei tecnici a entrare gioco in questo coordinamento per affrontare insieme le tematiche. Le risposte sono state positive.